Cremona nel mondo significa prodotti in metallo, il cui export ammonta 845 milioni di euro sui 2,1 miliardi di export totale a livello provinciale. Lo rivelano i dati ISTAT relativi al primo semestre 2017, raffrontati a quali del 2016 ed appena elaborati dalla Camera di Commercio di Milano Monza-Brianze-Lodi. Ciò colloca Cremona al secondo posto in Lombardia, tra le quattro città interessate a questo tipo di business. Al primo posto nell'export di prodotti in metallo e Brescia, seguono invece dopo Cremona, Lecco e Mantova. Principali aree di destinazione dell'export dei prodotti cremonesi, oltre ai paesi dell'Unione Europea, sono Svizzera, Russia e Turchia, dove si concentrano 179 milioni dei 2,1 miliardi di export totali.